La memoria di Albertina era chiusa coerentemente tra due nascite, la sua avvenuta nel 1937 e quella della figlia Irene venuta al mondo nel 1972. Nell'arco di questi 35 anni si svolge un'esistenza comune, quotidiana, fatta di eventi minuti e a volte dolorosi, che possiedono però un minimo comune denominatore non dissimile da quello di Maria Rossi. Il desiderio, la volontà, la necessità del riscatto. E Albertina Castellazzi, la vincitrice del premio Pieve Saverio Tutino 2024, con il testo Fendevo l'aria, memoria 1937-1972, a ritirare il premio la figlia Irene Rubin. Speriamo che Albertina riceva questo premio anche lei, con gioia. Il diario racconta la guerra fuori e dentro di sé, ma anche una battaglia vinta, quella per l'emancipazione. È riuscita e ha dimostrato di avere la capacità di emanciparsi, di realizzarsi e questo è un qualcosa che mi ha sempre segnato per tutta la mia crescita. La premiazione, come sempre, a Pieve Santo Stefano, dove assede l'archivio dei diari. Otto i finalisti che hanno proposto storie di guerra, donna alla ricerca di riscatto e di libertà. La giuria, infine, ha deciso di assegnare una menzione speciale ad un'altra autobiografia, ricordi di un nomade, di Giovanni Stefanolo. Il racconto picaresco, appunto, di una vita in perenne movimento e non vi leggo il resto.